Sindaco, la stagione invernale è ormai alle porte, purtroppo parliamo ancora una volta degli impianti di risalita. Qual è la situazione? Effettivamente per me è il quarto anno consecutivo che di questi tempi, invece di festeggiare l'apertura invernale finalmente, oppure la riapertura della stazione in termini anche invernali, parliamo qui dell'annoso problema, che poi è sempre lo stesso. Gli impianti non si ventono e la gestione non viene fatta. Allora, diciamo che c'era stato uno spiraglio importante con la sentenza del 2 luglio, in cui il giudice aveva invitato la Gran Sasso Terramano e il gestore custode attualmente finora ad addivenire a un incontro per la compraventita. Poi questa cosa non si è verificata, il 28 ha rinviato ulteriormente alla data del 21 gennaio 2025 e questo è un aspetto. C'è poi l'altro aspetto che è quello della gestione. Chi attualmente è il gestore custode dovrebbe gestire, quindi gestire significa che questi impianti dovrebbero funzionare. Ora è naturale che noi ci rendiamo perfettamente conto che riaprire tutti gli impianti di questi tempi di corsa per l'inverno è difficile, però quello che avevamo chiesto, che chiediamo ogni anno, anche dall'anno scorso l'avevamo fatto, di riaprire almeno la seggio cabinovia, anche in versione pedonale, perché è un piccolo segnale, ma è sempre un segnale di ripartenza. L'anno scorso si è un pochino così ciurlati nel manico dicendo che c'era il problema di sicurezza degli Obelix, abbiamo già detto che non era questo un problema. Quest'anno si parla adesso di nuove manutenzioni straordinarie che dovrebbero fare d'accordo la provincia e il gestore. Insomma non è che noi entriamo nel fatto tecnico, siamo disponibili ad ogni incontro, siamo disponibili a risolvere soltanto la situazione, sperando che almeno si possa riaprire. Sì, però il discorso è questo, noi stiamo cercando anche di destagionalizzare, abbiamo messo dei progetti che adesso non è il caso qui di dire, eccetera. Però è chiaro che la stazione va in sofferenza se questi impianti non aprono e non è tanto la sofferenza, voglio dire, sicuramente sì di afflusso di gente, perché la gente continua proprio di immagine, non è possibile che una stazione che sta a ridosso del Gran Sasso, che ha permesso di sciare a generazioni intere della nostra provincia, di colpo si debba fermare. Basterebbe poco, basterebbe una seggio cabinovia aperta, forse il tappetino per principianti, per riportare un po' di bambini dalla scuola, già sarebbe per noi poco, ma sarebbe già tanto. Aggiungo a questo che le attività commerciali sono in sofferenza e proprio ieri è arrivata un'altra notizia che una nostra operatrice abbandona l'attività. Adesso il 28 di ottobre non si è conclusa la compraventita ed è rimandata a gennaio, quindi capite che la cosa è complicata, ma al di là della compraventita noi insistiamo su un altro aspetto che è quello della gestione, cioè l'attuale gestore custode per conto del Tribunale può gestire, dovrebbe gestire, bisognerebbe convincerlo in qualche maniera a farlo e non riusciamo ancora a capire perché questo non avviene.